Alla parola ora il Presidente della Fondazione Gramsci, Professor Bacca. Signor Presidente, signore e signori, vorrei rivolgere anch'io un saluto a voi e un sincero ringraziamento per aver accolto l'invito a partecipare a questo convegno in onore di Eugenio Garenna. Una figura che ha illuminato la vita culturale e civile dell'Italia e non solo dell'Italia nella seconda metà del Novecento e mi si è consentito di indirizzare un ringraziamento particolare al Capo dello Stato per aver posto il convegno sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e averci onorato della sua presenza. Vorrei infine manifestare la grande soddisfazione dell'Istituto Gramsci per aver avuto l'opportunità di collaborare con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana che è un'Accademia dell'Incei a realizzare alla realizzazione del convegno e di ciò ringrazio vivamente il loro Presidente. Noi dell'Istituto Gramsci abbiamo avvertito una particolare responsabilità nel preparare questo evento. È noto a tutti quanto abbia contato l'incontro con Gramsci nella biografia intellettuale di Garenna e quanto importante sia stata l'opera di Garenna per gli studi gramsciani avendo contribuito in misura inestimabile a trasmettere la lezione di Gramsci alla cultura italiana e internazionale. Questa straordinaria simbiosi è durata più di mezzo secolo e ha avuto nell'Istituto Gramsci un interlocutore e un tramite significativo. Come non ricordare la relazione di Garenna su Gramsci nella cultura italiana con cui si apriva il convegno organizzato a Roma dall'Istituto Gramsci nel gennaio del 58? E come non associare nel ricordo la relazione sul problema degli intellettuali nel pensiero di Gramsci con cui dieci anni dopo Garenna aprì il convegno di Cagliari? Sono due pietre miliari degli studi gramsciani, due punti di riferimento tuttora validi per quanti si avvicinano a Gramsci in Italia e nel mondo. Ma vorrei ricordare anche due altri momenti molto più recenti. Nel 1989, in vista dell'ottantesimo compleanno di Garenna, ci eravamo proposti di dedicare un convegno di studi non dissimile da quello che oggi giunge felicemente in porto. Non fu possibile realizzarlo, ma chiamammo a raccolta una nutrita schiera di studiosi italiani e stranieri, alcuni dei quali animeranno anche queste giornate. E mettemmo insieme due volumi di studi in onore del grande maestro, filosofia e cultura per Eugenio Garenna, curati da Cesare Vasoli e Michele Ciliberto. L'opera uscì nel 1991 e fu presentata a Firenze. Ricordo ancora con emozione la gioia di Garenna e fu altrettanto lieto di accogliere il nostro invito a tenere la relazione di apertura del convegno su Croce Gentile fra Tradizione Nazionale e Filosofia Europea che organizziamo Orvieto due anni dopo. Fu un convegno impegnativo, di stampo, lasciatemi dire, schiettamente gariniano. E Garenna vi tenne una relazione dedicata a Croce Gentile, interpreti di Marx. Per oltre 50 anni dunque Garenna è stato per l'Istituto Gramsci un faro imprescindibile. Un maestro e un collaboratore generoso, un ispiratore dei nostri programmi e, se mi è consentito, del modo di concepire la nostra presenza nella cultura italiana. Per questo ho parlato di responsabilità. Ma come bene intendete il senso di responsabilità si mescola all'emozione, al ricordo, all'affetto per il maestro e alla gratitudine per lui e per tutti voi che insieme a noi, oggi, qui, lo celebrate in un modo che oso credere non gli sarebbe spiaciuto, cioè approfondendo criticamente le ricerche e gli studi decisivi da lui dedicati al pensiero del Novecento. Grazie.